segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te davvero non ha non approfitti davvero della della mia cortesia glielo detto ieri glielo detto dieci minuti fa lo ripeto adesso e allora vede non sono fatti di di critica alla persona davvero la politica fatta sulla moneta dalla banca centrale in europa è stata devastante ha distrutto la forza il potere della politica in effetti la vede in platea da applaudire i banchieri i quali a loro volta adesso non sanno più cosa fare rampini diceva in america decidono con difficoltà ma decidono da noi con i tassi ma lei lei pare che sia le faccio una citazione non non brecta marx diceva i tassi zero saranno la fine del capitalismo in questi anni abbiamo avuto i tassi sotto zero magari marx aveva torto ma i tassi sotto zero hanno distrutto le famiglie e sarà sempre peggio quando in banca avrà i tassi sotto zero ma l'inflazione al carrello della spesa sarà enormemente più forte allora ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è finito è evidente professore mi sono salvato la questione non era porla sul terreno del conflitto tra personalità peraltro così autorevoli ma per alimentare il dibattito politico e sulle soluzioni di una crisi che ci sta alle calcagna grazie professor tremonti grazie fedeli